Da millenni la natura ci sorprende con creature incredibili e spesso spaventose. Ma c'è un mistero che si nasconde tra le ombre del regno animale. Sei pronto a scoprire l'insospettabile protagonista di questa storia? Stiamo per svelare il segreto dell'insetto più feroce che campeggia nel mondo naturale. Nel misterioso regno animale, dove la ferocia si cela dietro l'apparente tranquillità, c'è un insetto che sfida ogni immaginazione, la Vespa Vasaio. Un nome che richiama l'arte e alla crudeltà, un'ombra nera che nasconde segreti inquietanti. Vespe nere, come piccoli artigiani, si impegnano in un rituale affascinante e terrificante. Da un terreno bagnato, esse raccolgono il fango umido, creando l'opera di una vita, il loro nido. Questo non è un nido qualsiasi, è un rifugio contorto e sinistro, simile a un igloo allungato, con le pareti che custodiscono un segreto macabro. Il nido, una volta indurito, assume un colore nocciola e diventa visibile anche a distanza. Ma il suo aspetto ingannevole cela la sua funzione orripilante. La Vespa Vasaio cattura prede, principalmente ragni, tramite il suo veleno paralizzante. Le prede, vive ma immobilizzate, vengono poi deposte nel nido insieme a un uovo. Il nido viene sigillato, un segreto sospeso nell'aria. Questo è solo l'inizio dell'orrore che si cela nel ciclo di vita di questa creatura. All'interno del nido, nell'oscurità opprimente, i ragni condividono lo spazio con un futuro ancora più oscuro, una larva di Vespa. La larva si schiude, un'entità affamata e crudele. I ragni all'oscuro del destino che li attende vengono divorati vivi. Uno straziante banchetto per la giovane Vespa. Se ti piacciono questi contenuti, sarebbe per noi fantastico se decidessi di supportarci. Iscriviti subito al canale e attiva la campanella. A te non cambia niente, ma per noi è molto importante.